Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro nuovo video di background race click simulator Allora oggi ci troviamo qui perchè ho trovato questi trapetti bellissimi, rari e questo costume da game. Allora oggi dovremo comprare ancora altri pet e dovremo comprare in questo in questa specie di Poi intanto dovete iscrivervi, commentare, lasciare like, farmi sapere i suoi commenti se dovete fare altri petiti su questa modalità perchè mi sta piacendo veramente un botto Per il sostiene la quale si può percepire il nostro storico e quindi qui si può fare anche la quale si può fare anche l'amore E' un bel giro. non posso lui facciare, volevo lui facciare il panchino raga finchè non mi esce quello lì Grazie a tutti. e per la prossima eccomi ritornate 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 Posso fare questo, no, mi sembra molto più veloce, non lo farò mai a battere voi mostri, non lo farò più veloce. Non lo farò più veloce, non lo farò più veloce. Non lo farò più veloce. Non troppo veloce. Non troppo veloce. Vediamo un altro costume, no, roc... Non troppo veloce. Non troppo veloce. Proviamolo un attimo. Vediamo. Goto... Un altro? Posso farmi un altro? No. Proviamo, non so... A due bacione Ecco due, due, due Sì, il godo Non entrare in questo Non so, non entrare in questo Non posso fare un altro giro di ruota Mi sa di no Andiamo a venire da venticini Ammetto quello che vuoi Che è un po' Comune, perfetto Grazie. guarda Qui, al piatto. 4, 2, 1, 2, 1, 2. Questi pietti sono troppo lucchissimi. Occhi pietti sono troppo lucchissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.